Via libera della Commissione tutela del paesaggio per l'area ex Cattoi di Riva del Garda. Ieri mattina la Commissione della Comunità di Valle Alto Garda e Liedro si è riunita per esaminare la richiesta di parere paesaggistico sul piano di comparto presentato per la superficie da 19.000 metri quadri a sud di Viale Rovareto della società sud tirolese Trentina guidata da Heinz Peter Hager. La Commissione tutela ha dato il proprio benestare pur imponendo tre importanti prescrizioni interrare il parcheggio pubblico mascherando a verde l'area di posteggio, tenere conto di rinaturalizzare i corsi d'acqua dei torrenti Varone e Albola che scorrono ai lati del terreno e modificare la viabilità, l'accesso e la mobilità secondo le esigenze dei tempi. La Commissione tutela è composta dal presidente Gianni Morandi, assessore ai lavori pubblici della comunità e dai tecnici architetti Gianluca Dossi, Gianfranco Zolin e Sandro Aita, dall'ingegnere Emiliano Leoni, dall'esperto forestale Enrico Tonezzer e dal segretario Valerio Spagnoli. Erano presenti ieri anche i funzionari del Comune di Riva Achille Rosa e Ivana Martin, ma non la parte politica.